ciao a tutti sono spiega la mattata e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale siamo in minecraft pvp per oggi siamo in minecraft pvp un po' speciale siamo in campagna di sirbo98 che anche oggi è vivo e oggi ci ammazziamo a colpi di non mi ricordo il nome della mod si chiama esattamente baltons ma che cazzo si iniziamo bene oltre si è esplosa la casa bene iniziamo subito come vedete perchè allora possiamo tipo lanciarle ok vado a farmi un giro facciamo la tecnica del coniglio coco ma come vedete diciamo via 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 anche lui la conosce aspettate un attimo pausa pausa time out non mi sono messa la cazzo di armatura lanci cibo 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 un due mangiare allora porc c'è un gain porccio Dimmi ora Scusate un attimo C'entrava quello Eccomi qua scusate Oh merda Eh tranquillo non ho fatto niente Non parte Non parte maledetta non esplode Perché non hai messo una cosa Allora vi insegno come usarla Fate così Ho sbagliato dinamite Mi sta sparando il culo ragazzi Affoga Non affogherò mai Allora Lui non sa dove sono No Muore detto Muori 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 No 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 Non riesco a fare Scappiari Vieni vieni Sì ogni tanto va bene Ok Corriamo veloci nella nostra base Allora Io ti ho avvisato per questo tipo di battute Avete presente il ferro affinato? Non so perché ma credo che mi stia passando sotto casa No no tranquillo Non ho intenzione di fare niente del genere Ok siccome ho sbagliato dinamite Vado a farle esplodere la base State tranquilli Si fa così Così E poi così Credo che siano esplose Adesso proviamo questa nuova arma Oddio gli effetti sonori Oddio il volume No va bene dai Oddio ho fatto un 360 senza volerlo Goditelo Mori muori 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 Ah 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 Fuggiamo Aiuto Non lo so bloccato sono nella merda Dov'è dove Olè Nooo Ok Ce dobbiamo armare subitissimo Via casa 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 Non credo che ti servirà Oddio Io ho un'arma letale No, mi hai distrutto le scale, maledetto Non posso più salire Allora Ora vedrete Ecco, questa è la mod E questo è quello che prendo Sto arrivando, stai attento Tanti di questi, ok Sì, però ora mi tocca fare questo Ma che... Non è giusto! Aspetta! Questa che non funziona Facchiulo Come potete vedere Sono molto bravo, sì sì, lo sappiamo tutti Allora, non so come fare perché non ho settato lo spawn Tregua per cinque secondi sinché non arrivo Mi dai cinque, anzi conti tre secondi e poi comincio a sparare come un matto Ok Allora, allora, allora Prendo questo e basta Ok, sto arrivando Cosa hai preso? Niente Dove... Non sei tu che mi sta sparando, mi sta sparando Oh, senti, ti spacco il culo quando vuoi Dove stai? Perché io gli avevo usato una cosa per le battute Non è vero Eh, lui non l'ha seguita No! Non sono nella mia base, ho sbagliato Ciao No, nuke No! Ok, ci mettiamo in game mode Uno E ci godiamo Quante ne hai messo? Un paio Allora, vi dico soltanto che il server Tra l'altro lo stato da game mode Grazie da un momento in un altro perché le battute di sta Abbiamo due giga dedicate Un giga a testa, quindi Oddio No In realtà non sta laggando bene No Ho fatto un ultimo acquisto Soltanto l'acqua sospesa nell'aria Vabbè, quelli sono piccoli dettagli È già troppo che il server non ne ha fatto boom Oddio Dove sei? Eh, direi che ho vinto perché ho demolito la tua casa Facchio, anche io ho demolito la tua, guarda La mia è ancora del legno Sì, io non lo vedo il legno No, maledetta, non bravarci Ma questa è la mia, cazzo Smettila di ridere Mi rifarò prima o poi Oddio, è crashato Sì Ok, bene Sto fondata finisce qui Se il video vi è piaciuto mettete mi piace Scrivetevi No, che ti ammesso andiamo a fare un po' di PvP Davvero? Ti spaccolano? No, mettiamo in pausa Facciamo un PvP Noi contro il resto del mondo Ci vediamo tra poco Allora ci vediamo tra poco Ciao Eccoci qua, allora Siamo nella squadra posta Siamo ritrovati Sì Siamo nella squadra posta Ma mettiamo nel stesso server, dai Le spaccol Quello che voi sapete Sì, sì Sappi che sto cercando te Non cerchi i tuoi compagni Cerco solte Sì, vedo che non sono l'unico vestito da bambu natale Anche se In modo diverso Ma dove fai tu? No, quello tranquillo camminando Certo Scometto che non ti seguirà proprio nessuno Ah È dei compagni di squadra intelligenti, non vale Sì, io che stavo colpendo uno della mia squadra Perché era rosso Secondo me Secondo il mio cervello È rosso Vuol dire che è contro di me Ovvio Allora Ha giocato troppo alla Play 1 Giusto Come vedete Sono passato fino a Merda Sono un cretino E questo lo saprei Cioè la fai a fare una frase Di senso compiuto? Sì Dun 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 Dai non cedere troppo Basta Gli hai ferito il cuore Ehi, aspetta Come fanno le freccia a partire dalla nostra base? No, non capisco Oddio No, no, no Eri tu? No, io sono tranquillo per solo la mia base Ok Nano era Dalos Bastardo Me la paghi Ahia il mouse Si soffrò per il mio mouse, va bene? Ahia il mouse Mi fa male il mouse No, stiga Non va bene Allora Andiamo Oddio C'è una tipa Vestita da prostituta Ma perché devi laggare tu? C'è un tipo che stava laggando Della sottoterra E c'è un Perché ci sono queste Nella nostra base Che si stanno sparando Tranquilli Sì ma io me ne vado Ciao Perché noi siamo noi E voi non siete un cazzo Spara la cieca Perché non so perché C'è la nebbia Allora Questo panticello Avrà una sua utilità Probabilmente E ne feticcia là Ed è quella di uccidere I sirbo 98 Oh Ma chi sono? Bastardo Mi ha chiuso dentro Un tipo Lo stavo sparando L'ho sparato due volte Allora Poi si è chiuso Io Devo stimare A quel tipo Sper tutta la mia vita Ma sono Vabbè Pagliate Scemenze Che fai tu Mi stai Se sembra Magno Anche se non c'è Purtroppo non c'è Che Stardo figlio di Gondola Sì Di gondola Tu discrimini Le gondole Sì Sì lo so Sono un po' Razzista Ma sono dettagli Oh Qualcuno è morto Dopo 30 anni che so Allora Mi sono fatto Tutta la scaletta Tutto quanto Dopo 30 anni Stopirla Prende Mi spara una freccia Mica tanto pirla Oh Oh Chi c'è qui Uno stronzo Inutile che fai lo slalom Tanto gli prendo Oh Che cazzo Oddio Pega la matata morta No Lal Allora Vediamo un pochino Un pochino Un gueppio qui No basta Figa Devo tirare fuori la nuke Anche in questo server E tu dove la togli? La invento Non lo so ma devo utilizzare la nuke Sì mi sembra giusto Ok Sì vabbè tu e i compagni buggati Non che io sono baggato Nel cervello Ti ti volevi Ecco Allora La spina Massima Prendiamoci La buona Da Cosa ci fa la lava Alla sotto Ve lo spieghi? Non lo so Perché non c'è la scalata di ferro E soprattutto cosa credono di fare i tuoi compagni sparando a merda? Oh beccata Ma non sei tu quello Oh ma Ma tu un dogazzo stai Sto per uccidere uno Io Ok io mi nascondo Ciao Ho visto uno della tua squadra cadere E non hai aiutato Mi dicevano Oh Gli ho sparato una frecce in testa Non hai fatto soffrire Così si aiutano le persone Ah c'è un tipo da tua squadra che si sta avvicinando No Una cosa è certa Non ho ancora visto una morte Sirbo 98 ucciso Spiega 98 D'altronde non ho visto neanche Spiega 98 ucciso Guarda questi Perché si stanno barricando nella base questi stronzi? Abbiamo vinto Fuck you Dove sei? Non lo so Sto venendo verso la tua base Perché si vengono Riprendiamo come prima Nuke No comunque Ho creato un paio di passaggi di vetro per far passare i miei compagni Bastardo Ecco perché non mi vedevi C'è fottuto Beh Eh lo so Ok Finita la partita Si Si Blu In che server Speriamo di essere lo stesso server Sennò Aspetta che non riesco a vedere quello per scegliere In No Non posso Un po' Ok E sono Rosso Perché se metto blu Si si è molto Tutti ho visto adesso Vediamo se con me No io sono blu Ma quando mai Sono nato per farti il culo Inutile Si certo Oddio perché fai 360 automatici il mio mouse Allora ci facciamo Un accesso Ma che c'è solo redstone Perché tutto resto per fare le armi Cioè perlomeno dannoci il ferro per fare le armi E legno Ah eccolo Tanta roba Spadina Ok Piadina No la piadina la mangiamo dopo Che buona la piadina cazzo Si magari se me la metto la L'armatura E' meglio Cosa questare con finiti Allora devo solo scoprire dove si esce Ah c'è l'acqua il teletrasporto Allora O in questo momento il nostro intento è uccidersi il 98 Sto lagando come un porto Si si No Ok Ma perché ci danno questa maledetta armatura che non servono a niente Scusate Eccomi qua Allora la lontananza Lag Lag estremo Si non so anche io sto laggando come un porco Oddio Ok Eccolo e lui si lancia Tra le linee nemiche Mi hai visto? No sto laggando ancora Anche io sto laggando non so perché Un monumento a blu Destroggiamolo Ma io che come lo sono? Come io comando Non lo so Perché non posso entrare nel monumento rosso? Non fai entrare nel vostro monumento Mi chiamo Maledetto dove sei Ti ho capito che non posso entrare però Ma stai mi chiamati Diamanti Noi trovi diamanti Sto scherzando a cazzare Secondo te Ah Un altro Stai laggando come un porco L'ultimo episodio No Am To Stai laggando E anche io sto laggando Ok No che è una minchia Non c'è niente Oh oh Stiamo tutti laggando Guarda come faccio cadere una persona No Perché uno rosso sta entrando nel monumento rosso tranquillamente No 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 Alla gatto Tutto 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 Stai laggando anche tu Tutto 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 Perché Insomma No No Olè Mi sto lanciando frecce io non sei neanche accorto Che No Sto Basta di vincere La panca Non devi vincere Non devi vincere Ma vaffanculo Ma Con questo tipo Ah ma non è finito il match Oh ma Perché adesso ho smesso di laggare Cioè è fatto apposta No da me lagga ancora molto Da me no adesso no Ok Stai Le altre persone che vanno Io non laggo Perché riesco a distruggere le cose tranquillamente No meglio di con l'aggo proprio di hardware Capito Oh dio Ti sbottere tutto Ah non è finita la cosa Il match No mamma mia che lagg Ti accidero Ti accidero Per tirare il computer Anche io Soprano che non ci riesco perciò 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 Sei morto Sei morto Per l'amor di dio Per l'amor di dio Per l'amor di dio Per l'amor di dio Sì abbiamo capito che mi tanto Dio No Alleluia Bellissimo la croce Vabbè lasciamo stare A posa di croce Siccome mi sta buggando minecraft Io vorrei di andare Di nuovo in un'altra serie E continuare la tua techcraft Ma nella techcraft o nella pvp La techcraft Ok Ci vediamo tra poco Ebbene sì Lui era la persona Che doveva entrare nella serie Ci vediamo tra poco Ciao